Parole grosse sono volate al Consiglio regionale di ieri dove si è discusso della carta degli aiuti che aveva portato nei giorni scorsi il consigliere regionale Pierpaolo Petruccio a fare uno sciopero della fame ottenendo che il punto fosse inserito all'ordine del giorno. Alla fine il Consiglio ha respinto il documento dell'opposizione sull'impegno a riscrivere la carta approvando invece quello della maggioranza che apre alla revisione prevista a giugno 2023. L'aula si scalda all'intervento del presidente Marco Marsilio dopo un'ora di consiglio. Marsilio in sostanza ha difeso la scelta dicendo che l'elenco è equilibrato e visto che c'erano dei limiti si è data la priorità ai comuni che potevano sfruttare quell'occasione. I mogugni di fronte alle parole di Marsilio partite dai banchi dell'opposizione hanno fatto perdere le staffie al governatore che ha parlato di sceneggiata di Pietrucci dicendo la vedo deperita e poi ancora ha parlato di facce toste accusato Pietrucci e Pepe di non aver fatto nessuna revisione nel 2016 quando si poteva fare accusato loro di aver lasciato gli uffici di ricostruzione in condizioni disastrose. Il governatore ha apostrofato anche Pietrucci dicendo che lui forse si sente migliore perché è nato in Abruzzo e lui a Roma. E allora la discussione la potremmo chiudere chiedendo scusa al mondo, santificando il povero consigliere Pietrucci e anzi ringraziandolo per l'enorme sacrificio che ha compiuto arrivando a mettere in pericolo la sua salute facendo uno sciopero di fame determinatissimo che naturalmente non dura più di 4 o 5 giorni perché io la invito consigliere Pietrucci a usare con più parsimonia certi metodi di protesta perché quando si fanno iniziative del genere contengono una violenza morale che non le può sfuggire che non le può sfuggire perché lei mette Presidente Marsiglio se per favore concluda il dibattito ne sono gravi. Collega Pietrucci, collega Pietrucci, collega Pietrucci, ha sceneggiato, al terzo giorno arriva l'infermiero Collega Pietrucci, Presidente Marsiglio guarda la conclusione, non gli conceda questa continua inutile platea Collega Pietrucci, lei si deve sedere però, si deve sedere, ho già chiesto al Presidente Marsiglio di concludere lei si deve sedere, si deve sedere, collega Pietrucci si deve sedere per favore Il Presidente Lorenzo Sospiri più volte ha cercato di riportare l'ordine per far concludere l'intervento a Marsiglio Pietrucci ha definito l'intervento del Governatore spocchioso, un discorso che per lui ha sbeffeggiato i comuni esclusi Di livore rabbia ha parlato il capogruppo del PD Pietrucci, insomma uno spettacolo sui banchi non bello su un tema serio che ha portato a proteste vementi da parte dei territori